30 rivoluzioni intorno al sole a ritmo di rock and roll. Questo 2023 non può essere un anno come gli altri per il Gubstock Festival, manifestazione musicale organizzata dal comune di Gubbio, assessorata alle politiche giovanili, ufficio in forma giovani in collaborazione con diverse realtà associative del territorio, tra le quali Arche, Arci Perugia e Avis Gubbio. Gubstock compie di fatti 30 anni tondi tondi per uno spaccato intergenerazionale di cultura giovanile musicale che ha regalato alla città e non solo la possibilità di ascoltare artisti di alto livello, poi affermatisi nella scena nazionale come i Fast Animals e Slow Kids, Calibro 35, Bengala Fire e Kruger. Ma soprattutto un festival che ha saputo non solo durare ma crescere, mantenendosi fedele alle ispirazioni originali e capace di cogliere al meglio i mutamenti culturali e musicali, locali e nazionali, come ha ricordato in sede di presentazione l'assessore alle politiche sociali Simona Minelli. L'appuntamento è per il 2 e 3 agosto al Teatro Romano di Gubbio con ingresso gratuito per una line-up di grande fascino tra artisti emergenti e grandi ritorni. Che avremo è il Collettivo Vivo, che è il frutto del Soundwriting Camp, che è un progetto che portiamo avanti con molto entusiasmo da due anni, Emma Nold, che è una cantante in completa ascesa, una cantatrice giovanissima che porterà il suo show sul palco del Teatro Romano, i Mont Baud, che sono la nostra piccola scommessa, che è un progetto veneto che mescola il teatro con le DM, il raid party, l'elettronica, qualcosa di molto sperimentale, che farà ballare i ragazzi da mezzanotte in poi e abbiamo le due reunion che caratterizzano un po' questo trentennale, cioè la reunion degli Stand Back from the Yellow Line e dei The Generation. Sono due band storiche del nostro panorama che riguarda la zona sociale 7, a cui si rivolge anche il bando, che è il bando al quale partecipano tutte le band che poi salgono sul palco del Goobstock. E volevo ricordare anche per questo che abbiamo ricevuto 25 domande di progetti non solo del territorio ma da tutta Italia, ovviamente prediligendo progetti che appartengono alla nostra zona, e Under 35, quindi daremo spazio a moltissimi progetti inediti e emergenti di giovani che hanno voglia di far sentire la loro musica. Una trentesima edizione con illustrini, come dimostrano anche le significative iniziative collaterali, che risaltano socialità, integrazione e volontà di esplorare un variegato calidoscopio di arti performative. Inizieremo il 31 luglio con il pre-festival, evento all'interno del quale daremo modo ai gruppi che non siamo riusciti ad inserire nel programma delle due serate al Teatro Romano di suonare. L'evento inizierà alle 18.30 e sarà ai Giardinetti di Piazza 40 Martiri e all'interno del pre-festival inaugureremo anche la mostra di colla, che quest'anno è dedicata ad un'esposizione dei manifesti storici del nostro festival. Non abbiamo tutti i manifesti dei 30 anni, ma in gran parte li abbiamo recuperati. Poi quest'anno abbiamo una collaborazione con il Correnti Jazz Festival, che il 1 agosto farà una masterclass in autoproduzione musicale a Sigillo. Ovviamente vi invitiamo a partecipare anche a questi eventi in attesa del festival. Grazie a tutti.